Benvenuti, cari follower! Prima di entrare nei dettagli, non dimenticare di supportarci premendo il pulsante Mi piace per questo video. Grazie! Se tempeste di neve molto forti colpiranno l'Italia domani mattina, lunedì 22 aprile 2024, e la neve continuerà a cadere in Italia almeno fino al 24 aprile. La neve cadrà in pianura e a quote molto basse, con clima freddo e temperature sotto lo zero, poiché le previsioni indicano l'arrivo di aria molto fredda sull'Italia a partire dalle prime ore di domani mattina, lunedì, e quest'aria fredda registrerà il caduta di quantità molto elevate di neve al nord, con uno spessore compreso tra 5 e 60 centimetri come tasso di accumulo. La neve continuerà a cadere per 72 ore, come dicevo, e inizialmente, secondo i dati preliminari a nostra disposizione, le zone interessate dalla neve a partire da domani mattina, lunedì fino al 24 aprile, sono rispettivamente la Liguria, il Piemonte, Valle d'Aosta, Limbadria, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia Veneto, Emilia Romagna Occidentale, Toscana Settentrionale. Qualsiasi altra notizia importante cercheremo di aggiornarvi più avanti.